Ho guidato una volta nel 1900, non lo so. La vita che guido ancora non te sei tranquillizzata. Però vai via. Ferilli ora in veste catinario. Guarda avanti eh. Attenta che questo sta un po' fuorostrada. Vai. Prenda a mano magari, levalo va. Eh ma dove si va? A D. Vai piano adesso però. Guarda, guarda. A Hollywood è passata ormai la moda per i reboot eh. Adesso siamo arrivati ai reboot dei reboot, giustamente. Ed eccoci qua con Elizabeth Banks che dirigerà e coprodurrà il reboot del reboot. di Charlie's Angels. L'attrice aveva debuttato alla regia con Peach Perfect 2. Il film probabilmente cercherà di distanziarsi dai precedenti Charlie's Angels e Charlie's Angels più che mai con Diaz, Liu e Barrymore, fatti nello stile action-kitch e si avvicinerà di più quindi alla commedia. Voi quali attrici vedreste adatte a questi ruoli? Quali vorreste vedere? Fatemi sapere e noi ci rivediamo alla prossima notizia. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Fori Depending e altri video di le apro. Esto appunto a tutti!